Oggi parliamo della gustale rosato che insieme alla gustale rosso sono le punte di diamante dei vini Cripo. La gustale rosato è un Castel del Monte di OCG rosato ottenuto da uve bombino nero vinificate in purezza. In questo caso abbiamo esaltato quelle che sono le peculiarità del bombino nero, quindi la grande aromaticità e la grande freschezza. Le uve arrivano in cantina, vengono pigiate, diraspate, subito abbiamo l'abbattimento della temperatura per evitare le ossidazioni e avviene un breve processo di macerazione che a seconda dell'annata dura dalle 4 alle 6 ore. Finita questa breve macerazione le uve vengono pressate e circa il 60% del mosto fiore ottenuto viene destinato alla fermentazione. La gustale rosato è particolarmente apprezzato dai consumatori di vino rosato in quanto oltre ad una spiccata freschezza ed aromaticità ha anche un corpo che li permette di affrontare piatti più impegnativi della nostra cucina mediterranea.